Careca Maradona e Carnevale in panchina di Fusco, Bigliardi, Fusi, Maure e Zola Titi in questo preciso istante, la Lazio che manovra il pallone, penna sulla destra messa a terra la palla da Francini che la riconquista ancora Maradona sul pallone, breve la rincorsa di Maradona che si accinge al cross non rispetta la distanza di 9,15 m Ruben Sosa l'arbitro smizzato lo invita ad allontanarsi, a retrocedere parte il cross di Maradona, accende la ridigola Baroni, guardi Baroni, Napoli in vantaggio palla all'incrocio dei pali, alla destra di Fiori Napoli in vantaggio, gol, Baroni al settimo minuto e 15 secondi di gioco Napoli in vantaggio con Baroni ragazzi e Nicola e sentite, ho evito evita mia al San Paolo la cantano in 70.000, è uno spettacolo stupendo, commovente e ripetiamo ancora più bello del primo scudetto perché forse è stato uno scudetto inaspettato lo aveva prima Sguizzato che controlla pallone che non viene restituito a Giuliani per la rimessa in gioco grande assembramento alle spalle di Giuliani vicino al sottopassaggio, recuperato il pallone ecco che Sguizzato se lo fa consegnare 17.47 minuti Stadio San Paolo Napoli campione d'Italia campione d'Italia campione d'Italia per la seconda volta